Whirlpool fa parte della storia non solo economica di questa provincia, di questo territorio, ma fa parte della storia sociale, culturale e quindi deve assolutamente rimanere qui, aperta, garantire posti di lavoro e soprattutto essendo un stabilimento con professionalità elevate, con capacità produttiva elevata, è assolutamente inaccettabile l'ipotesi di un'eventuale riduzione o chiusura di questa attività. Una delle prime questioni che il nuovo governo dovrà affrontare sarà proprio sicuramente questa, perché torno a dire fa parte della storia più brillante del nostro paese, di boom economico e vogliamo che il governo prenda in mano al più presto questa situazione.